Sessore Di Matteo, oggi un convegno importante qui all'Arum Pescara per parlare di tutela e di uso del territorio. I dati più importanti della giornata saranno per la prima volta una legge urbanistica con poche pagine rispetto a quella che era l'andazzo storico dove si facevano quei grandi faldoni che solo per leggere ci volevano i mesi e complicavano la testa sia all'utente, sia all'amministratore e sia al legislatore. L'altro aspetto che è poi collegato al primo è la sburocratizzazione che è una necessità, un'esigenza della società moderna. Va detto che poi tra le finalità la forza di questa legge è quella che cerca di coniugare in maniera significativa il rapporto tra il governo del territorio, che dovrà essere sempre legato alla sostenibilità, alla vivibilità e alla qualità del territorio stesso, evitando di utilizzare nuovi terreni, per cui scinde la parte edificata dalla parte non edificata, a differenza del passato dove nei piani regolatori c'erano le aree e nella parte edificata c'è la possibilità di spaziare per la rigenerazione, per il recupero dei fabbricati, i meccanismi di perequazione, compensazione, tutto quello che può essere anche interpretato nel rapporto pubblico preato per rilanciare l'edilizia.